Sono Marta Pascucci, sono nata a Milano il 24 gennaio del 1925, un mese e c'ho novanta. E il tuo nome di battaglia? Il mio nome di battaglia è Pera e devo spiegare anche... Allora, se vogliamo partire da lì, da come sei arrivata in contatto con i partigiani, perché ti chiami... Quando già ero arrivata, che mi hanno presentato a un gruppo, però io non avevo un nome di battaglia ancora. Durante la guerra, dopo un terribile bombardamento dell'ottobre del 1942, mia mamma voleva portarci in Toscana, che è al paese che era di mio padre, dove sono nati sei fratelli miei e altri quattro a Milano. Dieci? Sì. Che paese era? Torrita di Siena. Lei aveva una sorella che abitava a Siena e aveva una casa a Torrita. Allora ha telefonato... Non c'erano i telefoni? Non li avevamo. Ha scritto alla sua sorella e la sua sorella le ha detto vieni pure, che avremmo abitato nella casa di Torrita. Mia mamma ci ha preso i tre minori, un fratello che ha un anno meno di me, una sorella che ne ha quattro più di me, e gli altri però erano già in guerra, gli altri fratelli. E una sorella era in procinto di sposarsi, infatti si è sposata. Quindi ha preso i tre minori e siamo partiti. Siamo andati in Toscana e siamo arrivati a questo paese. Io, che avevo dovuto interrompere gli studi, facevo le magistrali a Milano, e sono stata obbligata ad andare a lavorare. Questo precede. Prima... Va benissimo, va benissimo. Sono stata obbligata ad andare a lavorare perché i miei fratelli, quattro, erano in guerra. E l'altro era piccolino. Ecco. E allora mi sono... Ho lasciato gli studi e sono andata a lavorare. Ho fatto l'operaia e alla sera andavo a studiare steno d'artillografia. Ho fatto l'operaia in diversi posti, anche persino nella meccanica, nelle officine meccaniche e così. E poi, quando ho avuto il diploma di steno d'artillografa, mi sono impiegata. Ho trovato lavoro come impiegata. Cosa ti ricordi di quel periodo in fabbrica? È stato importante? Era meglio non farlo? No, era meglio farlo perché, a parte che i miei fratelli erano tutti operai e tutti sono andati a lavorare prima dei 14 anni, perché per le famiglie numerose ti davano la concessione di avere il libretto di lavoro un anno prima. No, non è grave, però non è grave, però non è meglio se ne ho avuto tutti. Non so come mai. Insomma, davano il libretto di lavoro a 13 anni invece che a 14. E tutti erano nelle fabbriche, uno alla Bianchi, un altro alla CGE, insomma tutti. Di che zona di Milano eravate? Allora, dunque, allora abitavamo in zona Tagliedo, dove c'è il campo d'avversione militare. Sì, abitavamo lì. Era un quartiere operaio? Più che quartiere, era un ghetto, nel senso che eravamo, erano case minime dove si pagava poco di affitto ed erano, sono state costruite tutte come hanno fatto poi ancora con le case popolari a Milano ultimamente, ma tanti anni fa, oramai è tanto che non ne costruiscono. Ogni tanto perdo il filo. Anche io. Ed erano case abbastanza isolate, c'era solo una casetta vicina, c'era la scuola, l'asilo, eccetera, però, e la chiesa naturalmente c'era. Bene, allora hai fatto il periodo di operaia. Bravo. Ho lavorato anche in una legatoria, insomma ho cambiato anche tre o quattro volte il lavoro. Dopo mi sono impiegata, però nel frattempo ha bombardato Milano e mia mamma ci ha portati via. Come sono arrivata là? C'è un'altra domanda, scusami, perché mi sembra sia il momento giusto di chiedertelo. Quando hai iniziato a lavorare, avevi tutti i fratelli che lavoravano in fabbrica, eravate fascisti o eravate già? No, 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 no. Me lo racconti un po'? Dunque, no, mio padre non era, era un po' matto, molto intelligente, tipo matto, no, non era fascista. E i miei fratelli assolutamente no, però erano obbligati i giovani ad andare, quelle robe lì le sapete. No, no, racconta, facevano la ginnastica, facevano le uscite, erano… No, dovevano andare a fare il sabato, com'è che si chiamava? Io adesso c'ho proprio quasi… Sabato fascista. Sabato fascista si chiamava, era che si faceva mezza giornata di lavoro e il pomeriggio andavano a fare le esercitazioni militari, ecco. Io invece ero una piccola italiana, avevo quanti? Eh, 16 anni, no, nel 40 ne avevo 15, quando ho interrotto la scuola ne avevo 16, ecco. E io ero una piccola italiana, ma il fascismo ti passava le divise, perché mio padre, a parte che non avevamo i soldi per comprarle, ma mio padre non ce l'avrebbe comprato, e penso. Comunque non era iscritto al parito socialista… Ecco, e io tutto quello che ho fatto, ho visto del fascismo, è stato che dovevo andare a una manifestazione ginnica, vestita da piccola italiana, e quando sono stata là, all'arena di Milano, mi sono sentita male, mi hanno rimandato a casa e lì è tutto quello che io ho visto è fatto del fascismo, ecco. Ok, arriviamo in Toscana, vicino a Siena. E lì avevamo un cugino che era il fattorino del comune, ed era uno che comandava, sai, quei tipi che sono intraprendenti, e ci ha sistemato subito a lavorare. Io, segretaria, che ero l'intellettuale, segretaria del Podestà, che era una persona per bene, fascista però, e mia sorella, che invece aveva fatto la quinta elementare, l'ha fatta impiegata, cioè ci ha messo subito a lavorare, e davano una cifra per gli sfollati, però una volta che siamo andati a lavorare, mi par di ricordare che non ce l'hanno più data. Vi pagavano però. Eh? Avate uno stipendio. Lo stipendio, sì, 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 appunto, uno che ha lo stipendio non aveva diritto. No, era per dire che davano un sussidio agli sfollati. Aspetta. Com'era la vita lì? Volevo dire una cosa. Allora, ti devo dire, devo dire che come siamo arrivati, ci siamo tolti la fame davanti a una marmitta così di patate lesse. Che buone che erano, perché a Milano abbiamo patito tanto la fame, perché nei paesi, anche qui, avevano al massimo castagne e patate, ma a Milano non c'era proprio niente, niente, niente. Era uno sfiloncino lungo così, un panino, che poi provvedeva a qualcuno anche a metterci la polvere di marmo, per farli pesare di più. E c'era la borsa nera? E c'era, noi la borsa nera non l'abbiamo mai fatta, perché abbiamo solo avuto in regalo da una signora che mi comprava i libri, perché la mia maestra aveva insistito che andassi a... Mio padre voleva mandarmi a lavorare. E la mia maestra è venuta a casa mia, da mio padre, per pregarlo di mandarmi alle magistrali. E lei ha trovato questa signora, le tasse non le pagavamo perché eravamo dieci figli, no? Per forza. E questa signora mi ha comprato anche i libri, e un sacco di riso così ci ha mandato. Soltanto che noi lo condivavamo, mia mamma faceva sto riso con un dadino, un centimetro cubo di liebic, e non sapeva di niente, però ecco, questa era la situazione che abbiamo lasciato. Arrivati lì invece ci siamo sfamati, non abbiamo più avuto fame, perché mia mamma so che riusciva adesso, non ricordo come, a fare il pane una volta alla settimana e a portarlo al forno, per cui la fame non l'abbiamo più patita. E così abbiamo cominciato a lavorare lì. E quando era, che mese era? Nell'ottobre, novembre del 1942. Dopo, sono stata a lavorare con questo podestà, finché a un certo punto lui ha deciso che aveva una paura matta della guerra, dei bombardamenti, e ha deciso di trasferirsi in una casa che aveva in campagna. Lì era già, era vicino alla stazione, abitava, e ha deciso di trasferirsi e allora sono andata a lavorare in questa campagna. Andavo la mattina, tornavo la sera, lui era là con la famiglia perché aveva paura, non si è più mosso da là. Andare in bicicletta? Come andavi? Andavo a piedi, andavo a piedi a lavorare. Era tanta strada? Eh sì, sì sì.